Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione web della città, buon inizio settimana in questo lunedì 28 giugno all'insegna del caldo, tra poco vedremo come sarà la situazione meteorologica nella giornata di oggi, intanto andiamo a sentire le notizie di viabilità e lo facciamo come sempre con Walter Gerbi dalla centrale operativa dei vigili urbani. Walter, a te. alle 17.30, assemblea dipendenti comunali in piazza Palazzo di Città, possibili disagi ai servizi, Corteo Lega Nord con partenza alle ore 20.30 da piazza Arvarello e prosecuzione per Corso Siccardi, via Cernaglio, piazza Solferino, via Pietromicca e arrivo in piazza Castello. E' tutto, buona giornata, buon viaggio. Bene, grazie, grazie Walter. Allora, dicevamo la situazione del tempo, fa caldo questa mattina a Torino, abbiamo circa 27 gradi, già adesso intorno a poco più delle 9, una temperatura che è destinata a salire nel corso della giornata, arrivare anche intorno ai 30-31 gradi nelle ore più calde del pomeriggio. Ieri, per dirvene una, abbiamo raggiunto temperature massime intorno ai 33-34 gradi nel pomeriggio, intorno alle 5-6 del pomeriggio. Anche oggi la situazione non cambierà di molto. Abbiamo un leggero vento dal nord a nord ovest, intorno ai 13 km orari al momento, che però non porterà nubi pericolose, al massimo qualche velatura. Non dovrebbero esserci problemi di pioggia nella giornata di oggi. Vi segnalo che per quanto riguarda gli appuntamenti istituzionali, oggi è lunedì, quindi ci sarà la tradizionale seduta del Consiglio Comunale, che potete seguire come sempre a partire dalla nostra home page. E adesso passiamo alle notizie di Torino Click, l'agenzia quotidiana della città che trovate in formato PDF sulla nostra home page. Abbiamo scelto due notizie dall'edizione di venerdì, riguardano entrambi due eventi che si svolgono quest'oggi. Il primo è il convegno non più in difesa ma in difesa, un gioco di parole a chiusura di una serie di corsi di autodifesa che sono stati organizzati al Palagiustizia di Torino. Corsi di autodifesa per le donne, circa 50 persone quest'anno sono state addestrate a difendersi da ogni tipo di aggressione, molte altre sono in lista d'attesa. Ebbene, oggi pomeriggio alle 14.30, presso la Maxi Aula 2, al secondo piano seminterrato del Palazzo di Giustizia, ci sarà appunto questo seminario sull'autodifesa. Per avere delle informazioni potete telefonare allo 011 432 9363. L'altra notizia invece riguarda un evento che ci sarà questa sera al Circolo dei Lettori, in via Boggino numero 9. Si tratta del galà di chiusura della programmazione annuale del Circolo dedicata all'ascolto musicale. Questa sera ci saranno, grazie a degli esperti di ascolto musicale, una serie di occasioni per ascoltare musica sotto la guida esperta di intenditori. A dire il vero ci saranno anche degli ascolti molto particolari, una serie di LP da collezionisti di jazz dal 1957 agli anni 60. L'invito è anche per tutti coloro che parteciperanno, è quello di portare un vinile a cui tengono particolarmente per condividere il suono di questo disco con gli altri. Per informazioni, l'ingresso è libero, fine esaurimento posti, potete telefonare allo 011 432 6827. Ora andiamo sulla nostra home page a vedere la notizia scelta per voi questa mattina. Vi ricordo che si tratta ancora della nuova home page della città, in prova ancora per la giornata di oggi. La notizia è quella relativa al servizio volontario europeo, sono disponibili due posti per questo servizio, destinazioni in Strasburgo in Francia dal 1 settembre per 9 mesi, si tratterà di lavorare con bambini in difficoltà, oppure Cracovia in Polonia dal 1 ottobre, sempre per 9 mesi, sempre con attività per i bambini. Le candidature vanno presentate entro oggi, ve lo ricordo, potete trovare dalla notizia tutte le informazioni per poterlo fare. Un'occhiata al traffico in città con le telecamere del Consorzio 5T, andiamo a vedere la situazione sul fiume Po, qui siamo in Corso Moncalieri, come vedete in direzione sud abbiamo parecchio traffico questa mattina. Ovviamente i rientri dal weekend si fanno sentire. Qui siamo invece nella zona sud della città, Piazzale Caio Mario, in direzione via Norato Vigliani, come vedete c'è traffico anche qui questa mattina, sia in attesa al semaforo che all'interno del piazzale. Situazione che non cambia la rotonda Maroncelli, sempre zona sud della città in direzione di Corso Trieste, eccola qui, e infine chiudiamo con Corso Turati, angolo Corso Sommelier, dietro la stazione di Porta Nuova, la situazione qui è un po' più tranquilla, quindi le code sono più per entrare in città che non all'interno della città stessa. Bene, tutto anche per questa mattina, vi ricordo come ultima cosa la nostra nuova home page, ve lo accennavo prima, rimane pubblicata ancora fino al tardo pomeriggio di oggi, abbiamo bisogno dei vostri feedback per capire come migliorarla in futuro, quindi vi invito a visitarla www.comune.torino.it, lì troverete gli strumenti per aiutarci con un piccolo sondaggio ed eventualmente delle segnalazioni da farci. Grazie a Mario Parena per la messa in onda, a voi l'augurio di una buona giornata.